Prendere il via giovedì 15 dicembre al Cinema Academy Astra in via Mezzocannone la quarta edizione di O-Movies, il festival di cinema omosessuale promosso dall'associazione Iken con l'obiettivo di superare i preconcetti nei confronti di persone omosessuali e transessuali. La manifestazione, unica nel suo genere nel Sud Italia, rientra nell'ambito della sezione Iken Art ed oltre al concorso cinematografico che vedrà i lavori di registi emergenti sottoposti al giudizio di un'academy tecnica e di qualità, prevede anche una selezionata rassegna di film internazionali a tematica omosessuale che forniranno spunti per dibattiti e tavole rotonde sulle diversità di genere. È evidente che la problematica delle discriminazioni sta a cuore a questa amministrazione e fa parte del nostro programma elettorale, tant'è che dei passi concreti noi li abbiamo fatti e altri ancora ne faremo. Ritengo che sia un percorso fondamentale di partecipazione civile attiva nel centro storico e quindi anche se quest'anno in parte, nei successivi anni contiamo di poterlo rafforzare sempre di più. L'iniziativa che avrà come madrina Vladimir Luxuria si avvale quest'anno di una formula innovativa rappresentata dal questioning, un percorso di esplorazione della propria identità sessuale e del proprio orientamento al di là delle pressioni e del giudizio sociale. La serata conclusiva è prevista per domenica 18 con uno spettacolo di gala presentato da Miss Priscilla Drag Queen e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti del mondo culturale e del cinema italiano. In quell'occasione saranno premiati anche i vincitori del concorso cinematografico ed assegnati due riconoscimenti speciali ad Alessandro Preziosi e Maria Grazia Cucinotta. Noi vogliamo lanciare l'idea della costruzione a Napoli di un osservatorio nazionale contro l'omofobia nemidia. Lo facciamo con il professor Savonardo e con tanti amici, con Gianmarco Cesario del teatro.org, perché per noi cinema e teatro sono tutti quanti insieme. La cultura è il migliore antidoto alla violenza e al contrasto all'omofobia. Certo, le leggi repressive e punitive servono, ma se non c'è un'azione culturale che dimostra che la differenza tra le persone è una ricchezza per la società, avremo sempre qualche idiota che aggredirà qualcuno perché non lo riconosce simile a sé.